Immaginate se quella strada che è stata progettata nel 2004 fosse stata realizzata a parte dell'aeroporto di Reggio fino a Prunella, sarebbe stato poi più facile realizzare un progetto che peraltro mi dicono esistere tra proprio Prunella, compreso il tratto di Palizzi che è in corso di esecuzione per arrivare all'Ocri, credo che oggi non vedremo l'Ocri del pubblicino a Catanzaro anziché alla città capoluogo, per cui noi questa cerniera abbiamo l'obbligo di realizzarla, perché bisogna incenerare assolutamente l'ordine per le città di Reggio, altrimenti non so di cosa togliamo, quindi questa è un'opera pubblica, credo che ne discuteremo tra un po' che è essenziale e è una grande opera perché ci vogliono risorse finanziarie piuttosto consistenti. Questa è un'opera che è essenziale per la città metropolitana, non solo per l'area grecanica, ecco perché va a difesa e va a sostenere, chilometri 21, assolutamente, quindi come si vede si accorcia il percorso, quindi un progetto che se fosse stato realizzato o se riusciremo a realizzarlo, avrebbe assolutamente comportato per l'area credo un'altra storia, un'altra pagina, un altro futuro, un'altra prospettiva. Ma chi ha tempo non aspetti tempo, l'utilizzo della riqualificazione sotto il profilo turistico e ambientale è un progetto che prevede il coinvolgimento di tutti e dodici comuni che sono inseriti all'interno della valle grecanica e che quindi fanno parte dell'associazione dei sindaci dell'area grecana. In ora, come è stato detto, si è ragionato più come campanile, più a tutelare posizioni e rendite di posizioni campanilistiche, territoriali e comunali. Oggi il fatto che dodici comuni si siano messi insieme, cedendo, tra virgolette, una porzione di sovranità per un progetto comune a tutta l'area, direi che è un buon punto di partenza per quei progetti ambiziosi di cui si parlava. Questa è un'opera che è essenziale per la città metropolitana, non solo per l'area grecanica. Ecco perché va a difesa e va a sostenere. Chilometri? Chilometri 21. A non 32 quanto sono noi? Assolutamente, quindi come si vede si accorcia il percorso. Ma chi ha tempo non aspetti tempo. Oggi prendiamo uno spunto da questo convegno, associazione dei comuni dell'area grecanica, infrastrutture per la mobilità e l'unione, l'area grecanica nella città metropolitana. Diciamo che io guardo con grande attenzione entrambe le cose, sia alla città metropolitana che alle infrastrutture, perché camminano di pari passo, si incastrano l'area grecanica, con i suoi molti aspetti, le sue peculiarità, le sue tante problematiche, gli aspetti, il mare, i paesaggi, Roccaforte, Pentilattilo, oggi abbiamo avuto la RAI e Pentilattilo, la Mendolea, Bova, Valizzi, le nostre montagne. Gioca a tutti e ricordare, voglio ricordare a me stesso, che noi circa un'oretta passiamo dal mare alla montagna e nello stesso giorno possiamo fare una grande raccolta dei funghi e fare il bagno a mare. Sull'ospedale forse abbiamo un po' appassato la guardia, ma la madre di tutte le problematiche che va un po' a imbrigliare e incastrare tutte queste e passa da là è la viabilità, il problema di cui oggi ci dobbiamo interessare con forza, con premenza. Questa problematica passa tutto da là, non c'è agricoltura, non c'è ospedale, non c'è lavoro per i giovani, non c'è spazio per nulla, se per arrivare da Merito a Reggio in alcuni giorni ci si impiega anche un'ora e mezza per fare 30 km, parlo l'estate, giorni estivi, al rientro dal mare la Merito a Reggio e diventa infernale assessore. E pensiamo pure ai nostri paesi interni. Questo ci impone di fare squadra, di fare sinergia e di fare anche, come sindaci dell'area, saluto tutti i sindaci presenti, di fare squadra e di fare tesoro dei nostri errori, perché qualcuno l'abbiamo fatto, senza che io ve lo cito, dobbiamo fare tutti quanti ammenda per quello che abbiamo perso e per quello che non recupereremo più. e il tempo, come si vuol dire, il tempo è prezioso. Una volta che passa, è passato, è inutile che ci guardiamo alle spalle. Gli errori che abbiamo fatto ci devono servire da insegnamento e degli errori dobbiamo fare tesoro per non ripeterli più. Merito è il comune capofila di un'area che ha subito tanto, un'area spesso mortificata, un'area spesso dimenticata, un'area dove spesso si è spescato quando servivano i voti, lo dicono tutti. Il paese, diceva un vecchio proverbio, è del paesano. Ognuno di noi conosce meglio degli altri quelle che sono le difficoltà, le esigenze, la storia del proprio comune. E da questo dobbiamo partire. Vi dico che forse è la volta buona. Dico forse perché, diciamo, non ho quella convinzione che dovrei avere. Ma chi ha tempo non aspetti tempo. Questa è un'opera che è essenziale per la città metropolitana, non solo per l'area grecanica. Ecco perché va a difesa e va a sostenere. Chilometri? Chilometri 21. Hanno 32 quanto sono 8. Assolutamente, quindi come si vede si accorcia il percorso. Quindi un progetto che se fosse stato realizzato o se riusciremo a realizzarlo avrebbe assolutamente comportato per l'area, credo, un'altra storia, un'altra pagina, un altro futuro, un'altra prospettiva. Ma chi ha tempo non aspetti tempo. Come segnale significa che noi non abbiamo più voglia, né tantomeno intenzione, di perdere tempo. Ce lo chiede la cittadinanza, ce lo chiedono i territori, ce lo chiedono i comuni che finalmente ora iniziano a capire che essere all'interno e fare parte, essere città metropolitana, significa che senza più altri filtri, sono proprio i territori a essere diretti protagonisti. Allora, Ingegnere Monorchio, il Presidente dell'Assemblea dei Sinti dell'area grecanica, l'abbiamo visto affiggere, qua siamo al mercato coperto di merito di Porto Sapo per questo importante convegno su mobilità e trasporti nell'area grecanica, in vista anche della città metropolitana. Abbiamo visto alle sue spalle un progetto che lei ha voluto affiggere, lavori di costruzione della Statale 106. Insomma, di che si tratta? Ma, intanto io ho voluto proprio in occasione di questo convegno di questa sera comportarmi in un certo modo. Ormai si deve fare la politica dei sindaci, che è politica del fare. Quindi i convegni non devono servire per fare fughi in avanti, per presentarsi, non so, all'elettorato, ai concittadini, così, per dire che si fa convegnistica. Allora, ho tirato fuori questo progetto, che è del 2004, ed era un progetto preliminare, però munito di tutti quei pareri che all'epoca erano necessari per fare un appalto integrato. Vuole dire che era un progetto che si poteva appaltare. Purtroppo è rimasto nei cassetti... E i cittadini non lo conoscono? Sì, ora glielo dico. È rimasto nei cassetti per praticamente dieci anni. Era esattamente il progetto della nuova Statale 106, nel tratto che va dall'aeroporto di Reggio Calabria fino a Prunello. Chilometri? Chilometri 21. A non 32 quanto sono 8. Assolutamente. Quindi, come si vede, si accorcia il percorso. Quindi, un progetto che, se fosse stato realizzato, o se riusciremo a realizzarlo, avrebbe assolutamente... Avrebbe assolutamente comportato per l'area, credo, un'altra storia, un'altra pagina, un altro futuro, un'altra prospettiva. E quindi ora ci impegneremo per vedere di farlo diventare, come dire, un'opera strategica per l'area. La dobbiamo difendere con i denti. Dobbiamo, diciamo, trovare le giuste sinergie per, come dire, farlo diventare un progetto che eseguiremo, che realizzeremo. Questa è una delle opere, sindaco, più importanti. Io sono molto giovane, ma ricordo questo progetto e non a caso oggi l'ho chiesto di che si tratta, sul quale, secondo me, dovete puntare più di ogni, di qualsiasi altra cosa, perché significherebbe veramente collegare questi paesi all'Italia. Se non riuscirete a fare questo, avete fallito in realtà il tutto, perché non c'è altra alternativa. Assolutamente. Guardi, oggi è uscito sui giornali il sindaco della città metropolitana, ha pubblicato il decreto per i comizi elettorali, per andare a eleggere il Consiglio della città. Significa che parte la città metropolitana. Allora, mi dica lei, se è possibile costruire una città metropolitana dove c'è una strozzatura, che L'Ocri si trova più vicina a Catanzaro, anziché alla città capologo di Reggio Carai. Allora, fare questa opera non la facciamo soltanto se riusciremo a realizzarla per l'area grecanica, ma per costruire quella cerniera con la Locride. Quindi questa è un'opera che è essenziale per la città metropolitana, non solo per l'area grecanica. Ecco perché va a difesa e va a sostenere. Ma chi ha tempo non aspetti tempo. Ovviamente qui oggi cercheremo di parlare di cose anche un po' più strategiche. Addirittura vedete affisso a sinistra un progetto di cui parleremo che riguarda la 106, il progetto del 2004. Però ovviamente dobbiamo dare risposta anche a queste emergenze. Magari non saranno proprio l'oggetto principale del nostro dibattito perché è giusto che parliamo, avendo questi interlocutori così autorevoli che riteniamo debbano anche, come dire, in questa fase in cui nasce la città metropolitana, capire che in quest'area c'è necessità di alcune grandi opere che devono dare respiro proprio alla città stessa. Immaginate se quella strada che è stata progettata nel 2004 fosse stata realizzata, a parte dall'aeroporto di Reggio fino a Brunella. sarebbe stato poi più facile realizzare un progetto che peraltro mi dicono esistere tra proprio Brunella, compreso il tratto di Parizi, che è in corso di esecuzione per arrivare all'Ocri. Credo che oggi non vedremmo la Locri del più vicino a Catanzaro anziché alla città capoluogo. Per cui noi questa cerniera abbiamo l'obbligo di realizzarla perché bisogna incenerare assolutamente la Locri di come città di Reggio. Altrimenti non so di cosa togliamo. Quindi questa è un'opera pubblica. Credo che ne discuteremo tra un po' che è essenziale e non grande opera perché ci vogliono risorse finanziarie piuttosto consistenti. Noi deve essere veramente un inizio. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo fare la politica che devono fare i sindaci. La politica del fare. Per cui oggi vogliamo parlare di un tema concreto. Quindi ho parlato di questa cerniera che manca tra la città capoluogo e la robida, per esempio. E quindi lo stesso titolo del convegno è infrastrutture per la mobilità. Quindi c'è messo un po' tutto e poi c'è l'unione. Perché proprio le opere di cui vogliamo parlare in quest'area sono anche quelle opere che devono dare unione alla città metropolitana. Perché non è immaginabile che la robida ormai sia più più civile perché la mobilità, vogliamoci chiaro, è quella che poi diventa decisiva per vedere con quale altre comunità, con quale altre infrastrutture, tu realizzi poi le tue relazioni. E evidentemente noi in queste condizioni spingeremmo la Locride a stare veramente, diciamo a configurarsi sempre più come quella repubblica che dicono essere, perché la Locride è considerata una repubblica distante per mille regioni culturali, eccetera. E allora veramente se la lasciamo, che sia vicino in più a Catanzaro, vuol dire che la vogliamo separare dalla città di Reggio e quindi dalla città metropolitana. Una delle cose vincente è quella di fare ricostruire questa cerniera che la avvicina per la sicurezza delle comunicazioni, per la sicurezza stradale, per la rapidità con cui raggiunge la città capoluogo alla città di Reggio Garabio. La strada statale 106 è questa. Allora noi abbiamo ripreso un progetto che è stato redatto dall'ANAS nel 2004, che era un progetto preliminare, però idoneo per essere appaltato. Quindi idoneo per fare a quell'epoca un appalto italiano. La normativa non è cambiata, quindi quel progetto oggi è ancora utilizzabile, se i sindaci riterranno di farlo proprio. Di ritenerlo c'è un'opera che è, come dire, idonea a collegare la città di Reggio in Tattunella e poi alla Roma. Io ritengo che dopo di questo donno, dopo le comunicazioni che ci farà l'assessore ai trasporti, l'assessore russo alle opere, lui è proprio l'assessore giusto oggi in questo territorio, perché la sua delega è al sistema della logistica, a quello portuale abbiamo il porto, e quindi più di lui oggi in questo tavolo nessuno potrebbe sedere per dare risposta a questo territorio. E faremo una riunione per vedere se questa opera noi la consideriamo strategica per l'area, e poi molto probabilmente chiederemo che questa strada diventi stata europea diventi un obiettivo principale che consegneremo, non solo agli interlocutori che abbiamo oggi, ma ai nostri consiglieri regionali per fare pressione sull'ANES che la realizza. Questo ci impone di fare squadra, di fare sinergia, e di fare anche, come sindaci dell'area, saluto tutti i sindaci presenti, di fare squadra e di fare tesoro dei nostri errori, perché qualcuno l'abbiamo fatto, senza che io ve lo cito, dobbiamo fare tutti quanti ammenda per quello che abbiamo perso, per quello che non recupereremo più. Questa è un'opera che è essenziale per la città metropolitana, non solo per l'area grecanica, ecco perché va a difesa e va a sostenere. Chilometri? Chilometri 21. A non 32 quanto sono noi? Assolutamente, quindi come si vede si accorcia il percorso. Quindi un progetto che se fosse stato realizzato o se riusciremo a realizzarlo avrebbe assolutamente comportato per l'area, credo, un'altra storia, un'altra pagina, un altro futuro, un'altra prospettiva. Ma chi ha tempo non aspetti tempo. Questo ci impone di fare squadra, di fare sinergia, e di fare anche, come sindaci dell'area, saluto tutti i sindaci presenti, di fare squadra e di fare tesoro dei nostri errori, perché qualcuno l'abbiamo fatto, senza che io ve lo cito. Dobbiamo fare tutti quanti ammenda per quello che abbiamo perso e per quello che non recupereremo più. Grazie.